Entrati nel parco Tairona Oggi giornata di mare nella bellissima località di pescatori di Tatanga A soli 15 minuti da Santa Marta con un piccolo taxi A prezzo di 2 euro ciascuno di 3 Spiraggia di Tatanga, non è niente di che, è solo barche, fare tour, bussear Adesso ci facciamo un piccolo percorso di 20 minuti dove arriviamo a Playa Grande Dove è bella isolata, non so se sarà piena di turisti o no, però sicuramente è bella Questa è il ragazzi dell'hotel, il nostro equip di oggi I ragazzi colombiani conoscioli in ostello Inizia un bel cammino adesso, di una ventina di minuti In mezzo a un sentierino qua che costeggia tutta la posta In mezzo a un sentierino vile Un nuovo ricetta In mezzo a un sentierino In mezzo a un sentierino Grazie a tutti Buongiorno, ben entrati nel parco Tairona Adesso ci tocca fare un bel percorso di 40 minuti e si arriva nel paradiso In questi giorni mi ha piovuto un sacco, infatti il sentiero è completamente barroso Si inizia a sentire il mare Dopo un'ora di cammino nella giungla siamo arrivati a Plaga del Capo Qua è un puro paradiso Siamo a novembre, che spettacolo Puro paradiso, pura vita Grazie a tutti 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 Grazie a tutti